Dietro le tue operazioni, dietro le tue posizioni di trading, eventi globali stanno muovendo l'economia di tutto il mondo, generando volatilità nei mercati delle valute, delle materie prime, degli indici e delle azioni, creando opportunità di trading. È per questo che ti offriamo tutto un mondo, un mondo di ricerche e commenti sull'andamento dei mercati, analisi di esperti finanziari con accesso a dati economici globali, allarmi di prezzo e la possibilità di visualizzare il posizionamento operativo dei trader. Un mondo dove ogni informazione, ogni grafico, ogni strumento e innovazione, ogni funzionalità della nostra piattaforma di trading Next Generation è stata disegnata per aiutarti nella tua operatività. Per offrirti un'esperienza di trading senza eguali. CMC Markets. Prendi una posizione di vantaggio.